26 novembre, ore 17, stiamo navigando da 5-6 ore con 10 nodi di vento e avendo montato il gennaker che ci consente una sorprendente media di circa 6 nodi. Stiamo cercando così di ovviare a due giorni di vento molto debole e addirittura questa notte siamo rimasti fermi per parecchie ore. Ora stiamo cercando di recuperare il tempo tardato.